Hafiz Haidar legge la poesia della poetessa Concetta Astrorelli con frammenti. Non sai cos'è una bolla d'aria che svanisce come i tuoi sogni al mattino, perfetta, leggera, umile e sola. Non puoi tenerla in mano, non ti appartiene, la sua vita è breve, sfuggente, gocce salate, nei nostri silenzi, sei come i bambini, insegui i palloncini liberi nell'aria, ti disperi in questo caldo e raccogli fiori, ai bordi delle strade, mi sfiori il viso con la tua bocca disegnata, la luna da dietro il campanile illumina la notte e non penso al domani. Grazie. 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 Grazie.